Ieri sera il Consiglio Comunale di Canicatti ha approvato lo stato di dissesto finanziario dell'ente. La proposta del funzionario al bilancio e servizi finanziari Carmela Meli è passata all'unanimità dei presenti. Al momento del voto sono usciti i consiglieri eletti nella lista dell'ex sindaco Ettore Ventura che ha guidato l'ente locale nella passata consigliatura. Il sindaco Vincenzo Corbo ha letto in aula una relazione ancora incerto all'ammontare del passivo che sarà gestito da una terna di commissari che dovrebbero arrivare a Canicatti al più tardi entro i primi giorni di maggio. La delibera votata ieri entro cinque giorni dovrà essere inviata a Palermo alla Corte dei Conti al Ministero dell'Interno. I consiglieri di minoranza e opposizione hanno chiesto con un documento di accertare responsabilità e autori del pesante passivo iniziato a formarsi già in concomitanza dell'esperienza commissariale seguita allo scioglimento del Consiglio Comunale nel settembre 2004 per gli effetti dell'operazione alta mafia. L'amministrazione in carica continuerà a gestire l'ordinario con grossi vincoli gestionali e contabili.